Amici nero azzurri, signori, ben ritrovati all'angolo dell'interista, video così veloce in camera perché comunque tra il lavoro, gli impegni esterni, una cosa o un'altra, se mi si devo mettere in postazione a fare tutto, non ne salta più fuori niente, quindi vi voglio portare questo video qua. Vessino, vessino, suave, suave, vessino, molto vicino, vessino, pavesino, all'Inter, quindi è giusto che io dia la mia opinione, che dica ciò che penso. Vessino è molto vecino all'Inter, ok, con le battute ho finito, 24 milioni la clausola serve da pagare, 12 adesso e 12 l'anno prossimo, altrimenti c'è un'opzione in cui l'Inter può pagare qualcosina in più, spero che non sia una cifra esorbitante, per poterla pagare a rate, quindi direzionata, o come si dice insomma, sono stanchissimo ragazzi. Cosa penso del giocatore? Giocatore che sicuramente ha delle qualità, però un 91 ha già 26 anni, non ha dimostrato niente ed è un giocatore che a me non fa impazzire. Ci sono tanti giocatori in giro, anche più giovani, che sanno comunque portare il pallone, che sanno fare degli assist del genere, abbiamo Kovacic in squadra, quindi non è che... Cioè sappiamo tutti benissimo di che cosa fosse capace Kovacic, poi alla fine abbiamo venuto Real Madrid per fortuna per 30 erotti milioni, 35 milioni. Quindi secondo me all'Inter in questo momento servono giocatori che spacchino il centrocampo, servono proprio i nomi, i nomi grandi, ma anche se non dovessero arrivare quei giocatori da ingaggio da 11, 10, 12 milioni, serve un giocatore quantomeno un pochettino o più, proprio un pochettino o un po' più, diciamo top questa parola che sta uscendo parecchio in questi giorni. È chiaro che adesso con questa storia del fair play finanziario non possono arrivare i top top per una questione di ingaggio, però sicuramente Suning deve trovare delle occasioni e se l'occasione è stata vista in Vessino, che a quanto pare sta proprio per essere chiusa questa trattativa, secondo me stiamo cagando abbastanza fuori. Ripeto, il giocatore ha delle qualità, è un buonissimo centrocampista, può essere una buona riserva in una buonissima Inter, però secondo me giocare titolare, boh, cioè francamente abbiamo anche già Gagliardini che ha delle buonissime doti anche in impostazione e non solo, Vessino lo vedo più come proprio un giocatore che sa portare il pallone, più tecnico, quindi se deve giocare con un centrocampo a due spalletti non riesco neanche a vedere un Gagliardini fuori dal progetto e un Vessino titolare, comunque solo il tempo ci darà ragione, però secondo me servono altri tipi di giocatori a questa Inter che ovviamente sta facendo un mercato blando per colpa dell'UF che ci sta attaccata ai garetti e alle palle. Quindi signori miei, voi ditemi la vostra opinione sotto nei commenti per quanto riguarda Vessino, che è molto vecino, basta non lo dico più, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social network perché adesso in questi giorni vedrò di mettermi lì e fare qualche altro video che avevo in mente diverso dal calcio al mercato, dovevo portare qualcos'altro inerente a FIFA, non gameplay chiaramente. iscrivetevi, seguitemi sui social, sempre Forza Inter, amala!